a una persona ragazzi la cassa dell'approvvigionamento ci ha ucciso cosa? la cassa dell'approvvigionamento ci ha caduto in testa nooo non ci sto credendo ragazzi l'aereo no la cassa zii la cassa uno non cato vai 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 uno è già attirato non va fatti si sparano tipo da 120 non capisco da dove anzi sta entrando la gente che è quello la davanti? alienato? vedi che non è alienato mortacci de pippo chi è? alienato grande alienato con le goal tutti girati di schiena sono io ragazzo di alienato ma se stiamo girati di schiena come cazzo fai a dire sono io? Giorgio te lo giuro su chi ti pare sulle mie postazioni comunque se lo merda se fossi stato in live sarebbe stata la green più vista su tutti i giorni l'ho visto io di lascia sta ce l'ho io preso in pieto comunque questa è la cattiveria per le goal di alienato tipo così ma la cosa bella è che io faccio ma quello lì davanti a me chi è? sono io sono io ma vaffanculo io dovrei essere sono io sono io sono io sono io lomba vedi che c'è un cadavere qui sotto vedi? quella lì fai passi dietro fai passi dietro non guardare lì ti tappa da là ti tappa da là a me mi ha rotto un braccio e il torace bro è qua a sinistra ma subito dietro il muro? si andiamo ragazzi mi stacco un secondo live vi lascio con Dario che l'ho sto ora così potete continuare a vederci da lui e già che gli ho invaso il pub che sono pure io in live di solito non c'è nessuno in live da lui quindi mi sento pure in colpa che sono in live così quindi vi lascio con il Dario che è in live no davvero ragazzi poi mi sento in colpa io per come sono fatto io quindi vi lascio con lui e ora ritorno nel pub a continuare a bere dici? mamma mia vuole una B vene di un altro vuole una B vene di un altro rientro forzato per fare rifornimento è il mio nego è il mio game raga è il mio game bianco fai cazzo di far salire non dimmi che l'ombardo macchinino 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 la macchina ho preso io in testa non c'è la norma andiamo a prendersi al rosso 20.000 dollari che esce gabbo per game ha finito io io sentravo dentro al generico vicino quello senza cappella e monna no sono io giorgio dov'è? qua davanti a me, shuttato bravi su ho preso una macchina stanno a fuggire mi sembravo di vedere un altro che arrivasse da fuori almeno un mirino di un cecchino forse possiamo comprare un altro UAB? andiamo laggiù c'è rimosso oh c'è un elicottero quanti sono in elicottero? quattro cercato uno uno a terra due a terra, tre a terra ma chi cazzo sono? ma in che senso? vabbè vabbè oh al parcheggio regal parcheggio uno che vola peppe di napoli vedere non posso stare no peppe è bravissimo cosa ha detto? cosa ha detto? anche ieri mi stava sniperando senza vedere non posso stare ma appartiene no peppe è un grande fidati viene per farsi uccidere viene per farsi uccidere e ti canta le canzoni ma è stato a sud comunque non Grazie.